Hey boy, zero un botto che non ci beccavamo, bentornati sul mio canale YouTube, ragazzi oggi faremo una speda, se scivolo il video finisce. In primis però voglio dirvi perché non ci sono stati in questi giorni, ragazzi, ahimè ho avuto il covid, ho avuto un botto di esami da fare all'università, sono stato veramente molto occupato, ho riuscito anche il The Ring, quindi quei giorni in cui avevo un po' di disponibilità. Abbiamo fatto anche tra l'altro live su Twitch sul mio canale PortoTheGamer, dato che ne faremo altri questi giorni potete tranquillamente mettere il follow, trovate il canale in descrizione. E quindi niente, ragazzi, oggi faremo questa speda, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina qui su YouTube, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ricordo anche che ho un secondo canale in cui parlo di crescita personale, investimenti, università, si chiama Lucas Mello, lo vedete a schermo, basta che lo cercate su YouTube oppure anche di quello vi lascio il link in descrizione. E ora, boys, buttiamoci in game. Ehm, allora, non gioco a Fortnite da, credo, non lo so, un mese e mezzo, forse anche di più. Ve lo dico, ragazzi, è molto probabile che io scivolerò, cercherò di fare meno tagli possibili per essere il più sincero possibile, ma ammetto che è molto probabile. Eh, sento un po' di gente, sento un po' di gente, la cosa non mi fa per nulla piacere. Ehm, che dire, eh, vado in quella casa, dai, buttiamoci lì, nella speranza che funzioni, anche se, vabbè, io sarei proprio tentato di andarmene. Ma quasi quasi, boys, mi sa che farò proprio così. Ho pure un botto di ping, 64, man. You're joking. No, raga, io, io questo fucile a pompa non lo sto capendo, veramente non lo sto capendo per niente. Ma porca miseria, da dove sei uscito? Vabbè, comunque voi nella vita mettete sempre nel dubbio il codice creatore fortu, così come vedete a schermo. E accettate, così ogni volta che prendete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale, grazie mille. Allora, diciamo che non è iniziata bene, va bene, ok, lo ammetto, lo ammetto. Ma si può sempre fare di meglio nella vita, quindi sono in una zona un po' più tranquilla. Vabbè, sì, ma Dio, ok, dicevo, una zona più tranquilla. Ora cerchiamo, con tutta la calma del mondo, di portarci almeno un paio di kill a casa, giusto per ricordarmi un attimo con che pulsante si spara qui su Fortnite. Salve, che non mi servirebbe, mi servirebbe la chest, grazie. Sì, questa che sta tipo qui, palese. Tra l'altro io sto pingando pure tantissimo, cioè non sono per nulla d'accordo comunque con la sessione di gioco di oggi, guarda se si leva sta roba. Sessione palese di sbrocco, eh, cioè me lo sono proprio tirando dalla bocca. Ah, sto tizio che ha jumpato. Jumpa verso di me? Sì, ovviamente. Eeeh, fratello mio, mamma mia. Cioè, come sei poco simpatico, fattelo dire. Dai che i muri sono i tuoi. Non è che puoi farmi molto male, nel caso non lo sapessi, eh. Specialmente che quando ho 66 di ping, cioè, capito come. Vabbè, mi è andata bene. Grazie per l'assalto. E grazie anche per la shield potion. GG man. Ok, prima kill. Va bene. So ancora sparare su questo gioco, la cosa mi stupisce. Ok. Non posso farci nulla da qua. Palese non posso farci nulla proprio. Questo me fa male, regà. Con quello che ho di vita non credo sia molto fattibile sopravvivere se non scappando. Quindi ciao. C'è qualcosa da darmi di decente? Ah, vende. No, guarda, proprio stavolta non dico nulla, grazie. Due. Ma no, dai! Da quando le bende vengono date a due alla volta? Ma l'hanno messo nell'ultimissimo update. Ma sono sempre state cinque, ma che è? Sto sperando, fatemi capire se posso aggiungermi. Sinceramente credo di sì. Sì, 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 posso, posso. Sto solo attento. Tanto questo sta in acqua, dai. Godo. A posto, andato. Però sta l'altro da là sopra. Che credo stia ancora piccando. Appena possibile, poi ragazzi, torneranno anche i video di aggiornamento riguardo gli update di Fortnite. Assolutamente tornerà il TG Fortnite. Perché, tra l'altro, credo io di essermi perso un bel po' di cose che hanno aggiunto. Perché a me sembra proprio che la mappa sia un po' diversa a livello di strutture. Però potrebbe darsi semplicemente che io non sia mai passato qui. Cosa molto probabile, tenendo conto che di recente avevano rimesso pinnacoli. Che è l'unica zona in cui mi sono buttato per tutta la stagione. Però ora sto avendo anche autocontrollo. Devo essere sincero riguardo la sfida. Quindi mi sto piacendo, mi sto piacendo. Devo stare attento, non devo perdere la concentrazione. Sta un tizio in zona. Sì, 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 li sento, li sento, li sento, li sento. Stanno proprio qua sotto, fra. Sì, sì, stanno proprio qua sotto. Mamma mia, fra. Calmi. Ne possiamo parlare? Questo mica è salito qua. Oh, no, è scappato. No, non deve scappare, raga. Peccato. Sinceramente non mi va. Ma che vuoi? Questo vuole che non gli rubi la kill, forse. Ma se mi avesse eliminato avrei sbroccato male. Quanto è sono? 62? Oh! No! Brother! Brother, you have to stay calm! Il fratellino qui stava un po' su di giri. Come sale palesemente in testa. Palese, palesissimo. Ma pure da dietro! E te pareva. No. Così come sta piazzato, non ci posso fare proprio nulla, raga. Sta piazzato molto bene. Sa quello che sta facendo il tipo. Sa bene quello che sta facendo. Sì, ma quanti razzi ha? Scusate. Ah, li ha finiti? Ah, li finisce allora? Non sono infiniti? Mi fa piacere. Però non posso manco sprecare ora lo shield gag. Tra l'altro siamo in cinque. Ma questi cinque chi sono? Tanto per curiosità, eh. Cioè, non vorrei di... Però... Oh, basta! Ma cosa sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? Ah! Aiuto! Non è più nulla mia! No! Rip! Allora, cioè... Voglio dire... Mamma mia, quanta gente! Morto, palese, palesissimo. Cioè... Ma sono morto ambulante? Tipo tantissimo? Tipo sì? Tipo sì? Ma quanta gente c'è? Quanti sono? 44? Con il resto di 4 in fila per 4? Cioè, guardalo, guardalo, guardalo! Guardalo come sbrocca tutto! Ciao! Io direi, per metterci un attimo in una situazione di vantaggio, saliamo qua sopra. Così, per il meme. Tanto qualcosa lo troviamo. Ah, pure una stinger! Vedi com'è buona stinger! Ok, ok, ok. Ah, ah! No, praticamente è scelta più importante della mia vita questa qui di salire qui sopra. Ok, grazie, perfetto, buono. Scappa, questo scappa perché ha 3 di vita. Io lo elimino perché mi rubo la kill! No, forse dovrei ridimensionare la mia scelta. Da dove mi ha sparato? Secondo voi capisce che sto qua dentro? Ma secondo me no. Peccato. Ci sono andato vicino però. Devo essere sincero, ci sono andato vicino. Sono più veloce! Sono più veloce! Mannaggia tu sorella! Ma non lo so, io proverei la caverna. Proviamo covert caverna. Ma sì, dai, per il meme. Allora, faccio la tecnica da pro player. Aspettate. Uno. No! Andata male! Aiuto! Vabbè, pro player de sto cavolo. Attenzione del giudizio di fronte. Nemico? No, ok. Un nemico c'è però, eh. Siamo calmi. Qualcuno sotto c'è, eh. Qualcuno sotto c'è. Uscita pompa. Buono. Ok, sta qua sulla destra palese. Oh, no! Non è a destra! Ciao! No, muori! Ok. Easy. 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 Vatti sotto! Ah! Eiffi! Yeah!